Sindaco di Casale Federico Riboldi, a Novara nel giorno della sentenza nei confronti di Stefano Cimdaini all'Eternate BIS, sei rappresentante della città di Casale, cosa significa che i giorni ha per la città? La fascia tricolore che indosso rappresenta tutti i cittadini casalesi e monferrini, ma in più in generale tutte quelle persone che sono state vittime dell'egoismo umano, della volontà di arricchimento di una singola persona che ha scelto scientemente di colpire migliaia e di famiglie per un ritorno economico personale. Oggi siamo qua a chiedere giustizia e vogliamo continuare a credere nella giustizia di questo Stato, di questa nazione che amiamo, che deve riconoscere alle nostre vittime finalmente il dovuto.